Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lamber e oggi siamo tornati qui su Tormented Souls Bene, nello scorso episodio siamo riusciti a sbloccare una nuova area Qui, nelle profondità della Villa Wilbanger Dove ci sono molti pericoli Questa zona iniziale già l'avevo un po' esplorata con voi nello scorso episodio Ma, vabbè, faccio in fretta insomma C'erano una via difesa da un marrano qui Piene di cartelli che ti dicono attento a non continuare e non sappiamo il perché sia così E quest'area piena di cartelli la dobbiamo ancora completamente esplorare Non ci siamo ancora entrati Però eravamo un attimo entrati qui nel mausoleo Oh oh, eccoci arrivati Qui c'era un tizio un po' nascosto in una zona dove a quanto pare pregavano E ci sono piedi che vengono trasportati all'interno delle mura Non fate domande, è semplicemente così Allora, ecco qui la zona dove venivano a pregare, signori Però c'era anche un marrano qui in fondo che mi aveva pur ucciso Comunque adesso ci lo possiamo uccidere senza problemi Quindi nessun problema E c'era questo diario che non avevamo letto Quindi leggiamolo adesso Allora, qui c'è il nostro caro Bertram Che parla di una perdita Chiede perché la cosa che gli importasse di più fosse andata Credo che qui stia parlando tipo di sua moglie Qualcuno di importante La madre, non lo sappiamo E si chiamava Cristina Poi non sappiamo nient'altro Mi dispiace per il povero Bertram Ciao piedi E vediamo cosa c'è in fondo a questo corridoio Poi ci andremo ad esplorare la zona con tutti quei cartelli Però prima dovrei analizzare queste zone Per esempio sto per entrare nel salone nascosto Non sento rumori di mostri Dovremmo essere al sicuro A meno che qualcuno non stia facendo finta di essere già morto Vediamo Sembra una specie di sala da pranzo Ma davvero molto inquietante C'è un foglio Il diario di Noah Il nonno quello cattivo C'è un po' una roba complicata Nel 67 Noah continuava a dire Che schifo che son nato Perché mio fratello gemello è morto alla nascita Odiava tutti E ha detto non mi possono sacrificare Al dio Polluce Di cui abbiamo saputo meglio lo scorso episodio Per dargli potere Però si è convinto che Invece di donare il suo sangue quanto a gemello Dato che l'altro era morto Avrebbe guidato la setta dei Polluce Va bene Questa stanza era semplicemente forse per approfondire la law Qui nel mausoleo c'era un'altra strada Giusto? Sì Si continua qui nel corridoio Vediamo C'è nessuno Sì che c'è qualcuno Lo sento Porco due se mi hai fatto caccare Allora Con te è un po' un problema Devo ricaricare la lancia Quindi me l'equipaggio E corri via Corri via Caroline Bene attaccato il nulla Adesso sono pronto per combatterlo Vieni qui maledetto Stacc Lancia elettrica sugli zebedei Funziona sempre Adesso equipaggiamo il pire di porco E malmeniamo Ce n'è un altro però Bene ragazzi dovete rivedere il gioco Sono arrivato a questo punto Sapete semplicemente che nella stanza Dove abbiamo letto il diario di Noah C'era un altro nastro Infatti adesso siamo a ben sette Potremmo salvare tantissime volte Adesso andiamo a pensare all'altro inizio Che c'è per di qua Vediamo Questo qui è una tomba Una grande tomba di marmo C'è la scultura di una giovane Che regge delle regine della notte Il fattore dei cadaveri Si mescola al profumo dei fiori Che bello L'incisione sulla placca dorata dice Lo splendido arcangelo Sollevo appena il dito Un bagliore dorato Scaturo dal suo anello Quasi mi accecò All'improvviso La porta dell'inferno Si spalancò solo per me Che bello Ah chi è che non vorrebbe La porta dell'inferno Che si spalanchi solamente per te Adesso andiamo a pensare All'altro inizio Che c'è qui in fondo Dai sto qui per te Boom Benissimo E allora Ho ucciso questo qui Ovviamente per qualcosa di utilissimo Vero gioco Ah ok c'era una scala E' tutto molto buio Quindi non si vede tanto bene E chi c'è qui Una porta Eh ma Perché l'ho aperta Dove sto andando a finire Aiuto Sono aree inesplorate no No aspetta Ah so dove ero prima Nemmeno avevo visto Che qui c'è fosse un passaggio Va bene Ma quindi quest'area Che cosa mi è servita Va bene Forse questa tomba Che c'è qui dentro Mi servirà più tardi Non lo so Intanto cerchiamo di tornare indietro Da dove siamo venuti Dovrei poter andare in quella zona Con tutti i cartelli Che ti dicono Oh che cosa fai Non entrare Attento Eccolo qui La zona brutta brutta Vediamo Posso entrare E non saresti dovuto entrare qui Stranissimo Perché la stanza si chiama così La vasca è piena di braci Ma perché non sarei dovuto entrare Ho paura La vasca è vuota Piena d'acqua E' piena di terra Sì Posso avere qualche altra spiegazione Porta di ferro Wow Porta di rame Mi sto preparando per iniziare Una nuova avventura Desidero solo trovare Ciò che tutti gli uomini Ambiziosi cercano Per sfuggire alla povertà What Poi c'è un'altra porta Una d'oro Quella da dove siamo venuti Che è quella di legno Provate ad entrare in quella di ferro Cosa? Si sono spostati gli oggetti Qui per Sono molto confuso Per esempio qui adesso C'è la porta di legno Se esco Cavolo Sono bloccato qui per sempre Devo capire come uscire da qui Allora forse mi posso aiutare in basso Nord Est Ovest Sud Ma Poi che cos'altro devo fare? Desidero solo trovare ciò che tutti gli uomini Ambiziosi cercano per sfuggire alla povertà Devo andare dalla porta Più povera Quella più ricca? Un attimo Ma si accendono anche le braci sopra? Le candele Forse quindi se scelgo la strada giusta Si accendono? Ok Adesso per esempio Sono spente tutte Se provo ad entrare in quella d'oro Una si accende Quindi devo continuare a provare e provare Finché non trovo tutte quelle giuste Ma qui ogni volta Cambia il dialogo Sono caduto in mare Non ho mai imparato a nuotare Mi trovo a tre piedi sott'acqua Il mio unico desiderio è avere ciò che abbiamo avuto Per tutte le nostre vite Ma in quel senso ora mi sta uccidendo Aspetta Mi vuol dire che adesso devo scegliere l'acqua Questa qui quindi Quella di No No però l'indovinello cambia ogni volta O magari mi devo ricordare dove sono in questo momento E scegliere Non lo so Oro Però innanzitutto Poi prima l'acqua era qui Quindi dovrei andare qua Sembra forse che è così Sono stato salvato da un equipaggio di mare Ma ci siamo persi Vorrei seguire la luce delle stelle Delle costellazioni dell'orso minore Nel cielo notturno Mi sa che è tutta una roba separata Sia quello che c'è sopra i piedistalli Sia le porte Sia i punti Perché Effettivamente adesso qui dice che hanno seguito le stelle Probabilmente la stella polare Per esempio Prima si parlava di povertà Io sono entrato nella porta d'oro Però il fatto che fosse In qualsiasi posizione cardinale Che ci fosse la terra Era tutta un'altra roba Una tempesta impetuosa Ha fatto affondare l'imbarcazione Presto saremo completamente sott'acqua In questi momenti disperati Mi concentro solo sul cercare qualcosa Che mi tenga a galla Legno Il legno Tiene a galla Vediamo se funziona Sta funzionando Era così Taff dall'inizio Stavo provando ad entrare a caso Sto galleggiando da solo Alla deriva In mare aperto Scrutto all'orizzonte Sperando di vedere Dei gabbiani in cielo Cielo Suppongo che sia il niente Dato che il cielo È fatto di niente O magari dato che ancora Mare aperto È questa qui Dimmi di sì No non era quella Però vabbè Abbiamo capito Che era oro Qui parla di assenza Quindi forse il nulla Sì Era quello Poi adesso parla Di essersi perso E segue la stella polare Quindi a nord Allora Qui in realtà Lui sta cercando Gabbiani Ma sappiamo che Dove ci sono gli uccelli C'è terra Quindi Qui dove c'è la terra Era così Poi vediamo l'altro Mi sono svegliato Su un'isola deserta Sta per calare la notte Ma c'è qualcosa Che devo fare Prima che giunga all'oscurità Il freddo Mi penetri nelle osse Nelle ossa Qui sta cercando ovviamente Un fuoco Quindi credo le braci Vediamo Ha funzionato Ci sono ancora i fuochi Vediamo Sono passati i giorni E non c'è stata Traccia di imbarcazione All'orizzonte Morirò Certo Qui cosa sta cercando Un'imbarcazione Prima di chiudere gli occhi Per sempre Voglio vedere ancora una volta Il sole che tramonta All'orizzonte Quindi vuole vedere il sole Che tramonta Il sole tramonta Dovest Era quello giusto Ma dai Abbiamo sbloccato La nuova zona Passaggio L'orizzonte Vabbè Ciao Quanto Ciao per due Quanto te Ma son due Come li ammazzo in due Vabbè per ora Non mi faccio notare E prova a cercare in giro No Non so nemmeno Se sarei in grado Di ucciderli entrambi Dato che sono insieme Ma credo di doverlo fare Provo a usare prima Il fucile La pompa Attack Eh Non Non li ho colpiti Oh ca Ok Ok forse loro mi colpiscono Madonna Via 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 Come faccio a combatterli Ok E' la situazione un po' difficile Aia Questo qui farà male Tanto male Mori per favore Mori Cadi Bravo Dai vai Caroline Via 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 Kit medico Dai Madonna non c'ho niente Aiuto Mori 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 Ok E' morto C'è l'altro No ok Era lo scheletro Ok sono morti entrambi Ma che Ho avuto un po' culo Per fortuna c'avevo le cure Ok ce n'è un altro Mamma mia ma perché tu te sei difese C'è due insieme Non me l'aspettavo così E ho pure finito i proiettili Te sei mena zio Te sei mena Ok bravo Bravo ragazzo Perché tu te sei difese in questa zona Scusa E' una porta Si Bunker 3B Questo passaggio era pericolosissimo E non ho più proiettili Spero che me li dia il più presto possibile E lo Spero che non ci sia nessuno pronto ad uccidermi Non c'è ancora nessuno Anche per ora E c'è un ufficio Vediamo Che cosa c'è qui Una siringa con un liquido blu Ok Un resoconto della tribù Tismuth Allora qui parla in generale dei Tismuth Come c'era scritto L'unica tribù nel Canada Che si comportava come le tribù dei Maya Con sacrifici e robe varie E quindi qua degli esploratori Hanno scoperto che venivano sacrificati dai gemelli Per un dio sotterraneo che sarebbe rinato Avrebbe portato a dualità Non so che cosa intendessero Però Cos'altro c'è qui dentro che io possa fare Tra il fatto che c'è una canzone inquietantissima Diario di Bertram Allora Qui è successo una brutta cosa Bertram ovviamente Faceva parte della setta E doveva andare a sacrificare le sue nipoti Però sembra che si stesse affezionando alle bambine Infatti Gli hanno pure cucito delle pantofole Non riusciva a dormire la notte Pian piano che si avvicinava alla data In cui dovevano essere sacrificate Ci deve essere anche qualcos'altro qui dentro Oltre a una canzone inquietantissima Che non mi farà dormire E poi nient'altro scusami Boh non so posso provare ad uscire Perché qui non vedo più nient'altro Ma mi sembra strano Ritorno al passaggio Ma raga Sono tornato al mausoleo ok E ho appena notato che qui c'è un'altra zona Non avevo minimamente visto una statua Cosa dovrei fare con questa statua? Il messaggio qui parla di un arcangelo Che ha sollevato un dito E il suo anello l'ha illuminata Ma qui non ha alzato nessun dito Ah posso interagire con questo? Col dito dell'anello giustamente Quindi adesso Si è aperto una Credo la via dell'inferno Che tanto citava lì Già che io non riesco a fare i puzzle Poi me li metti al buio più buio totale Cosa credi che riesca a fare? Scusi Vediamo posso scendere qui sotto Siamo nelle fognature Continuiamo ad andare in posti sempre peggiori E' bruttissimo Fogne Salve Come va? Sento mostri E questo qui è un problema Perché non ho proiettili No ok ne ho tre della lancia elettrica Però la lancia elettrica ne usa due per volta Infatti diventa meno un proiettile Quando si utilizza due volte E ne hai tre Vediamo dove sei Eccoti Forse posso anche giuccarlo Ed evitare di sprecare proiettili Sarebbe bello Oh Altri proiettili No vabbè si combatte mi sa Ma sta continuando a fare il giro Oh cavolo adesso mi ha visto già No no via da me Via da me Va bene mi giro e ti combatto Bravo bravo A terra si inizia a picchiare Vai Caroline Vai Caroline E due donne Ed è morto Bravo Allora qui in fondo Dimmi che almeno c'erano delle cure No un diario Parla forse dei gemelli E un altro diario di Bertram Allora qui c'è un altro diario di Bertram In cui tutti quanti stavano facendo i re quieti Perché stavano finendo i gemelli E loro anzi stavano facendo dei concepimenti Semi artificiali Però venivano fuori gemelli sia mesi Che duravano poco e non abbastanza per essere sacrificati Quindi un casino per loro E Bertram credeva che lo avrebbero tolto come sommo sacerdote O qualcosa del genere E aveva un po' paura Chissà che cosa gli hanno fatto alla fine Allora Qui c'è un altro diario Intanto una donna quanti Un altro diario di una bambina Allora qui c'è il diario della bambina Nel 91 Quindi in realtà non è più tanto piccola Avrà avuto 21 anni Perché ricordiamo che si è nascosta Nelle fognature per tanto tempo E allora che cosa è successo? Era molto felice Però ha anche visto una specchiera in cui si è riflessa Ha visto un'altra persona molto simile a lei Non sapeva cosa fare Però quella persona era vestita molto meglio Conciata meglio Era invidiosa e gli è saltato al collo Intanto vedo anche cosa c'è qui Abbiamo aperto una porta Vediamo dove andiamo Ah la stanza di pompaggio va bene E' saltata al collo Mentre quella figura molto simile a lei E' più bella Stava tentando di dire una parola La nostra ragazza Ha continuato a premere fortissimo E non è riuscita a dire niente Però poi si è svegliata Piene di sudore Quindi ha avuto un sogno molto strano in realtà Che abbia qualche potere con gli specchi Comunque Uccidiamo questo mal Uomo che non è altro Morto Grande E comunque il diario che abbiamo letto finora è di Anna Ok perché ogni tanto negli scorsi episodi mi sono confuso con Emma Ed è anche la bambina che abbiamo salvato Quindi non si sa niente di Emma Adesso vediamo cosa c'è qui In questa altra zona delle fogne Che è enorme Per esempio c'è un'altra stanza In fondo In fondo In fondissimo Vediamo cosa c'è qui Allora deposito delle fognature Controlliamo Salve Ho un luogo dove possiamo salvare C'è anche uno specchio però E' un altro nastro Questo qui lo prendo Ah quindi forse Anna non è andata a vivere nel luogo Che avevo detto nello scorso episodio Che avevamo visitato Ma forse qui dentro Nel vault Ma non sappiamo chi sia Forse siamo noi Emma Ancora non ci sa E quindi è qui dove ha vissuto tutto questo tempo E non lo sapevamo Oh Cassaforte Posso usare questo? Non ci sta Dai E' palese che devo usare questo In una cassaforte no? Sembra rotta Non posso muoverla Spaccatutto Tutti gli oggetti che ho non servono Quindi F Allora ragazzi ho notato anche che nel resto Delle fognature non c'è più una strada disponibile Qui c'è un altro diario di Anna Nel 94 Ancora la ragazzina stava cercando Di sopravvivere Credo che sia quest'anno Se non sbaglio noi siamo venuti qui nel 94 O poco dopo Il nonno Noah Ha trovato questa Cella Ha detto sei viva Sei ancora viva Era davvero lui Aveva però una revolver Quindi lei non l'ha potuta aggredire Ed era anche in terribili Condizioni fisiche E qui lui dice Un miracolo Un sogno divino Finalmente riunirò le gemelle Willbanger Quando arriverà Emma Aprirò finalmente la camera blindata Che conduce al tempio Manca poco bambina mia Manca davvero poco E poi qui alla fine Lei ha dovuto seguire Noah Fino alla camera E da lì Lui è iniziato a aspettare Emma Che credo che siamo noi Però per aprire la camera blindata Serve che vengano scansionate Entrambe le retine Delle gemelle E qui dice Emma se mai leggerai queste parole Cerca di sopravvivere a ogni costo Fate una vita normale Dimenticate di me E se vedrà il nostro padre Non dirgli che sono rimasto imprigionata Quaggiù per tutti questi anni Però aveva anche una lama incandescente Devo farlo E qui effettivamente dice Ciò che sto per farmi Non voglio che mi veda in questo stato Permetti che sia io Decidero un'ultima volta Oh forse ha provato ad uccidersi Quindi forse si è uccisa E comunque adesso Noah Non potrebbe più continuare Però noi vogliamo provare ad entrare Eh questo qui è un bel problema Secondo me tipo Le varie gemelle si attraggono Riaccendiamo di nuovo le candele Ed andiamo nell'altro mondo Per controllare cosa è successo E lo ma Sembra esser Messo bene Questo mondo specchio O sbaglio Camera da letto di Caroline Cosa Camera da letto di Caroline Aspetto un attimo La situazione ci fa Molto più strana Del previsto O forse no Magari siamo stati espiati Per tutto questo tempo Non lo so È la zona dell'inizio del gioco Per caso C'è una tv con cui potrei interagire Poi vediamo anche cos'altro C'è qui in giro Il mio diario Questo messaggio si collega A quello di prima In cui c'era il sogno di Anna Ovvero A quanto pare Caroline sogna Finchè non si sveglia Zuppa di sudore Perché ha avuto Un sogno in cui c'è un tizio Che dice Iniziamo il rituale Quindi lei va allo specchio E vede una tizia Con i capelli arruffati Malvestita Molto simile a lei Che gli dice Ci hai abbandonate E gli salta addosso Poi si sveglia per davvero E scopre che era davvero un sogno E quindi si è tutto ricollegato Siamo molto vicini alla fine Stiamo per scoprire Che siamo le gemelle di Anna Anche se l'abbiamo scoperto Vent'anni fa noi Però lei no Non posso andarmene Finchè non avrò scoperto Qualcosa di più Sulle bambine nella foto Quindi devo far qualcosa Ancora qui dentro Qui per esempio C'è una televisione Ma non so come accenderla Perché dice Che non posso cambiare canale Senza la manopola Ma dov'è sta manopola Quindi per ora si torna Nelle fognature Va bene Ci deve essere qualcosa Qui che non ho visto Proviamo ad esplorare Un po' meglio Un grosso problema È anche che io Non ho la mappa della zona Quindi è un po' un casino Devo provare ad andare In quel lato là In fondo Però forse ci si può arrivare Da dove siamo venuti Magari c'è una strada Che non ho visto Oh forse sì Vediamo sto andando Bon Perché mi era sembrato Anche di vedere qui Un altro diario Infatti Fammelo La madonna Un diario di una bambina Alcuni scarabocchi infantili Disegnate con il sangue Va bene Era l'ultimo diario di Anna Che dovevo trovare E qui in fondo Non l'avevo esplorato Già Non l'avevo vista sta strada Allora fatemi controllare Dio madonna Ovviamente Ovviamente Sempre a farmi le sorpresine belle Maledetto Vieni qui Ti trafolgoro tutto Ricarico Prendo il piede di porco Do una mazzolata Mi allontano Prendo la pistola Ne sparo Sparo due colpi Allontanandomi Bene Recupero la lancia di nuovo To Quindi non ho nemmeno dovuto finirlo Con il piede di porco E ho abbassato il livello dell'acqua Forse quello lì è il bunker Dove dovrei andare Come ci scendo Come dovrei fare a scendere Non ho visto delle scale Per di qua forse Non lo so Oh eccole Eccole le scale Vediamo cosa troveremo qui sotto Allora Però preferirei innanzitutto Però trovare anche dei proiettili Letteralmente non ne ho più Posso semplicemente correre Da ora in poi Vabbè Provo a scendere un altro po' Questa qui forse era La camera blindata Oh Una vecchia manopola Di un televisore Ok Dobbiamo tornare indietro Per usarla E qui è tutto bloccato Ci sarà un modo per aprirlo Prima o poi Oh Potrei mettere qualcosa Davanti allo scanner Raga Il nostro occhio Quello che ci hanno tolto All'inizio del gioco Ecco perché ci hanno tolto Quindi forse già sono entrati Perché tanto basta la retina Se Anna si è uccisa Può anche essere Potrebbero comunque aver preso il suo occhio E averlo messo Lì per la retina Cavolo Non l'avevo pensato Il fattore Della perdita dell'occhio Avrei preferito Che ce l'avesse William Dato che Forse lui è più tranquillo Non più di tanto Ma insomma Forse lui non avrebbe Permesso che Le figlie Vessero portate in quella camera Adesso torniamo Nella stanza dello specchio E qui dovrei poter Usare quella manopola Dai Posso metterla E vediamo Posso accendere E girare Un dado Posso decidere in che direzione Dado Ragno Triciclo Ying e Yang Quadrifoglio Dado In realtà tutte queste robe Ci hanno tipo Un significato no? Perché potrebbe essere Triciclo 3 Ying e Yang 2 Perché sono due robe Quadrifoglio 4 Dado 6 Perché sei fasce E ragno 8 Ma che ci devo fare? Raga Il codice era nel diario di Anna 28436 Della cassaforte Quindi credo che questa tv Come ho detto Funzioni come una cassaforte Una cassaforte va prima Da un lato e poi dall'altro Ok? Però dovrebbe iniziare Forse da destra Perché qui c'è La frecetta destra Ma suppongo che ogni volta Deba venire fuori Un'immagine 2 dello Ying e dello Yang 8 del ragno 4 del quadrifoglio E forse effettivamente è così Quindi devo andare Prima Ying e Yang Che è quello che ho messo Di sottofondo Ragno Quadrifoglio Triciclo Dado Quindi provo verso destra Innanzitutto Poi in caso che non funziona Proviamo al contrario Quindi Ecco il ragno Poi dall'altro lato Fino Quadrifoglio Triciclo Bene Dado Ha funzionato Ma aspetta Sto vedendo un Qualcosa Che cos'è? Dio mio Ce l'ho fatta signori Ho trovato Una collana con un ciondolo A forma di sole C'era una zona con una luna Nella camera dei bambini Raga ma Finalmente Ci ho messo davvero tanto Per capire questo ragionamento E qui si è aperta Vediamo Apriti A forma di luna Ok E adesso che ci faccio Con sta roba? L'ho detto C'è quella zona Con la forma di luna Forse posso provare Ad andare lì Però Non ho mai visto Una zona con un sole Se non sbaglio Va bene ragazzi Facciamo un viaggio veloce Ci ritroviamo direttamente lì Yaro Siamo arrivati La camera dei bambini Accanto all'ufficio C'è questo Robo qui Mi chiedo Posso mettere questo Che cosa sono venuto a fare qui? Se li combino? Ah ecco Li posso combinare La luna a quanto pare Era più grande Quindi adesso ci dovrebbe entrare I sì I sì Ce l'abbiamo fatta Passaggi segreti Come al solito Ovunque Vediamo cosa c'è lì dentro Un'animazione Sembra strano Un caraglion Sì effettivamente Questo qui è un continuo Della stanza Per bambini Ci sono tutte Robe per bambini Boh Mi sembra strano Un'intera animazione Per questa zona Deve essere qualcosa Di importantissimo Che c'è? Ricordi? Traumi Ti stai ricordando Il tuo passato Vero? Ha detto La mia testa Sei tu Sei tu Quella gemella Ricordatelo Ricordatelo Vai Vai Un'intera animazione Un'intera animazione Un'intera animazione Ho mantenuto Le memorie traumate La mia testa Ma questa La mia testa Ha lasciato La mia testa Finalmente Si ricorda Da tutto Anna Tu hai stato Solo Nella scura Nel passato E già Avamo pure Provato a salvarla Nel passato Non so se Stai ancora Ma Prima di tutto Dovremo Trovare Il tuo occhio Prima di tutto Dobbiamo trovare Il tuo occhio Zia Esatto Ok Abbiamo finito Questa parte qui Controllo un attimo Cosa c'è qui dentro Perché credo che Non era solamente Per un'animazione Vero? Infatti c'è anche Un altro diario Il primo diario Allora Qui ci sono Emma ed Anna Che vanno In una foresta Anche se la madre Maria non voleva Anche perché Una volta lì Hanno sentito Colpi e grida Anna se ne voleva andare Ma Emma voleva controllare Lì hanno trovato Altri uomini Vestiti con una tuta E stavano colpendo Un enorme sacco Macchiato di rosso Che sembrava contorcersi Mi sa Qualche umano Finché non hanno dato fuoco A quel sacco E ha iniziato a contorcersi Un botto Anna ha spezzato Un rametto Per la paura Gli uomini L'hanno vista E le hanno indicate E loro le sono scappate Finché mentre scappavano Sono tornati alla villa Con i vestiti Che aveva acquisito La madre Rovinati E qui ci ricolleghiamo Un messaggio Che avevamo letto In cui la madre Aveva pianto Mentre gli spiegava Che dovevano Tenere cura i vestiti Non sapevamo Che loro stavano scappando Un amo di metallo Con una punta Accuminata Dove lo dovrei usare? O me lo conficco All'occhio Per metterlo Alla retina Ma non credo Suppongo Che dovremmo Trovare in qualche modo Il nostro occhio Non so come però E quindi abbiamo scoperto Tutto Cioè lei L'ha capito Si è ricordato No 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 C'è il fantasma Chissà poi Che è questo fantasma Che è in tutte le stanze Avrà qualche importanza Nella lore Magari è Maria Prima di concludere Vediamo se Caroline ha qualcosa Da dirci Dato che stava Andando a salvare Vediamo Eccola Perché credo Che fossero collegati I sogni Delle due gemelle A forma di cannone Si lancia In cortile Devo aiutare Quelle bambine Ancora non l'ha Cioè Qui non l'ha capito Ancora che è lei Una di quelle Già Adesso una domanda Quindi adesso ragazzi Con questo ultimo dialogo Sappiamo cosa fare Controllare quel pulsante E riuscire ad entrare Nella stanza blindata E andare a salvare Nostra sorella Quindi Se il video è piaciuto Dite il like Iscrivetevi E noi ci vedremo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi